Qual è la forza che ci spinge ad amare? La forza che ci spinge ad amare è ovvio il sentimento, il quale sentimento nella vita concreta spesso si dà contro la ragione, come opposizione della ragione. Però se riflettiamo bene è contro la ragione solo da un certo punto di vista, cioè contro la ragione come calcolo, come calcolo spesso utilitaristico. In realtà il sentimento che ci muove è la presentazione interiore di una ragione più forte, di una razio, di un logos che si muove dentro di noi e che ci spinge all'armonia, che ci spinge all'armonia con tutte le cose, all'amicizia, all'amicizia con la natura, all'amicizia con i viventi e naturalmente a livello più alto, all'amicizia così intensa con gli esseri umani che si chiama amore.